Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni dal 14 al 18 marzo. Negli episodi precedenti Stefania, dopo aver scoperto che Gloria è sua madre, ha lasciato casa Colombo e successivamente si era trasferita a casa delle amiche, Maria e Irene. Successivamente però aveva pensato che non poteva stare in eterno a casa loro, anche perché le amiche non erano a conoscenza della verità e nei prossimi episodi vedremo dove è andata Stefania. Nella puntata di lunedì 14 marzo busserà a Villa Guarnieri, chiederà aiuto a Marco, l'unico che ha conoscenza della verità. Il Sant'Erasmo la ospiterà nella foresteria della villa. Gemma si reca a Villa Guarnieri da Marco e Stefania si deve quindi nascondere. La Zanatta nota che il fidanzato ha un atteggiamento strano e inizia a pensare che si stia allontanando da lei. Riguardo alla figlia di Gloria ed Ezio, vedrà la sorellastra baciare il giornalista e a quel punto capisce che è arrivato il momento di togliere le tende. Bene che vada via da Villa Guarnieri, ma non vuole assolutamente tornare a casa dalla matrigna e dal padre. Però, per farli stare tranquilli, gli scrive un telegramma. Ovviamente, nonostante abbiano ricevuto il telegramma, sia Ezio che Veronica continuano ad essere molto preoccupati. Nella foresteria di Villa Guarnieri, Stefania trascorre molto tempo da sola, isolata dal mondo, e quindi ha tempo per riflettere e tempo per i ricordi. Le tornano alla mente i bei momenti trascorsi con Gloria. Da una parte vorrebbe perdonare la sua mamma, ma dall'altra è ancora troppo arrabbiata. Riguardo a Umberto, viene a conoscenza del segreto di Marco, ovvero che il giornalista nasconde la quasi collega nella foresteria. Non la prende affatto bene e dice che Stefania deve trovare un altro posto dove stare. Tuttavia, non la manda via subito e immediatamente, ma le dà qualche giorno di tempo per trovare un nuovo alloggio. Da una parte c'è Marco che si sta allontanando da Gemma, dall'altra c'è Umberto che non vuole che lei stia lì, e così Stefania decide di lasciare Villa Guarnieri e di tornare a casa delle amiche. Così si reca a quella che una volta era casa Cattaneo, ma non per tornare lì, ma semplicemente per prendere le valigie. Stefania è rimasta sconvolta, come abbiamo visto, del fatto che Gloria è sua madre, e così, oltre a lasciare casa sua, ha lasciato anche il paradiso delle signore, senza dare alcun preavviso a Vittorio. Per questa ragione Ezio e Gloria si ritrovano a dover giustificare la figlia agli occhi del datore di lavoro.